Per i trovati dalla redazione di news24.city, casa massima, ragazzo lanciato dalla finestra per debito di droga, arrestati tre spacciatori, prognosi di 40 giorni per il ventenne. Bari, furto in gioielleria del centro, incastrate due pregiudicate, le due donne si erano impossessate di un anello e 3.000 euro. Taranto, donna accoltellata nel rione, Salinella ricoverata al Santissima Annunziata, non è in pericolo di vita, sull'episodio indaga la polizia. Potenza, minaccia di gettarsi dal terzo piano del palazzo della regione, donna 52enne, salvata da carabiniere e agente di polizia. Bari, pala giustizia in atto, l'ipotesi dei container in vista dello sgombero definitivo dell'immobile entro il 31 agosto. Puglia, vela alla Brindisi Corfu, vince Obelix l'imbarcazione del Cus Bari, precede aria, top secret.